Ci troviamo ad Alzano Lombardi, sono in commenda il primo cittadino Camillo Bertocchi, ci piaceva insomma proprio prima del Natale venire a fare gli auguri e soprattutto cercare di capire come sta andando il vostro mandato e che cosa state facendo, insomma sempre impegnatissimi. Sì, siamo a metà mandato, siamo molto contenti, la squadra è molto coesa, sta lavorando bene e abbiamo avviato tanti progetti, tante opere ma anche tante ristrutturazioni gestionali importanti, il Montecchio, il teatro degli Storti che abbiamo proprio inaugurato ieri con questa nuova presenza teatrale, per cui siamo assolutamente soddisfatti. Bisogna essere sempre presenti, insomma il cittadino giustamente vuole delle risposte, le vuole concrete ma le vuole anche subito. Sì, la cittadinanza è sempre più esigente, noi ci mettiamo davvero tanta passione perché fare il sindaco, fare gli amministratori è soprattutto una questione di passione e professionalità e oggi anche il mondo del social ti impone di essere presente e esserci subito. E proprio, insomma, a proposito del mondo del social possiamo anche dare già in anteprima questa bella novità, insomma stiamo creando questa web tv, so che anche il Comune ha il piacere di partecipare, per dare in anteprima e soprattutto per informare i cittadini su tutto quello che viene fatto perché ovviamente Alzano è un territorio molto vasto. Ma è una bellissima iniziativa, la pubblica amministrazione si deve innovare anche da quel punto di vista, per cui è uno slancio di modernità di cui secondo me c'è assoluta necessità, proprio per quello che dicevamo prima, la gente ha bisogno di informazione, ha bisogno di notizie e quindi quale miglior modo della web tv. Siamo anche contenti di essere di fatto un po' i precursori, i primi di questa iniziativa e quindi siamo assolutamente contenti. Quindi, insomma, troverete ovviamente tantissime iniziative, tutto quello che si trova sul territorio, quindi a partire proprio dal mondo dei commercianti, di quello che è insomma il mondo proprio del commercio, ma poi spazzeremo arte, cultura, sport, insomma tutto quello che si può trovare qua. Beh, ad Alzano ci sono davvero tantissime occasioni di approfondimento, tantissime occasioni di cultura e tante anche notizie che tante volte davvero non riusciamo a trasmettere perché siamo talmente impegnati a fare che tante volte non riusciamo a comunicare. Quindi questo sarà uno strumento sicuramente importante per noi come pubblica amministrazione, ma soprattutto per i cittadini e anche per le parti economiche e sociali che sul territorio lavorano. Allora, diamo subito un'informazione, oggi già c'è qualcosa di importante? Beh, oggi è uno dei progetti, se non il progetto più importante di questo mandato elettorale che è la nuova scuola per l'infanzia, la scuola 0-6 anni, una delle prime che verranno realizzate in Italia, a consumo energetico 0 e verrà realizzate in Villa Paglia. Oggi approviamo il progetto definitivo esecutivo, dopo un percorso molto lungo, due anni di lavoro, finalmente oggi riusciamo ad approvare questo progetto e mandare in appalto l'opera, sperando che vada tutto bene. Quindi incrociamo le dita, insomma poi il periodo natalizio direi che è una notizia splendida, tanti auguri sindaco e facciamo gli auguri anche ai cittadini. Grazie mille, tanti auguri ovviamente ai cittadini e lo faccio utilizzando, ricordando lo sport che è stato un po' il protagonista di questo 2018 con la medaglia olimpica di Michela Moioli e augurando a tutti di vivere proprio secondo i valori dello sport, che sono quelli dell'amicizia, della lealtà, dell'onestà e vivere in una comunità forte ed unita. Tanti auguri alzanesi. Grazie mille sindaco, tanti auguri, insomma quindi rivedete la nostra web tv con tante tante novità qui dal Zano Lombardo.